La strada di accesso dell'ospedale di Sora va riaperta. Troppi i disagi per l'utenza, dichiara a gran voce la segreteria territoriale della Will Frosinone. Siamo alle solite, si parte con proclami, annunci e quant'altro, ma poi non si arriva mai alla soluzione del problema. Quella che ormai da anni tutti aspettavano e che era sembrata un'ottima iniziativa legata all'effettuazione di lavori di manutenzione di via San Marciano, strada di accesso principale dell'ospedale Santissima Trinità di Sora è rimasta al palo. Segnaliamo, dicono i sindacati, i notevoli disagi che si stanno quotidianamente provocando all'utenza e al personale che deve raggiungere il nosocomio. Ancora una volta il modus operandi, negativo, di chi sta gestendo i lavori è stato confermato e la strada è ancora chiusa e a pagarne le conseguenze sono sempre i soliti noti. Per questo, in qualità di sindacato, di rappresentanza dei lavoratori e delle fasce deboli della popolazione di Sora e di tutto il comprensorio, non possiamo più restare a guardare. E Paolo Pandolfi, segretario generale, e Ciro Savona, segretario organizzativo della UIL Frosinone, in coro dicono che è ora di provvedere alla riapertura di via San Marciano, strada principale di accesso dell'ospedale di Sora, assicurando nel contesto che la UIL manterrà un alto livello di attenzione finché ci sia una rapida soluzione di questa che è una delle criticità principali.